Quanto stanno costando al Comune di Pesaro le utenze per illuminare scuole, asili, biblioteche o impianti sportivi? L'ultima bolletta di marzo dice 223.000 euro contro i 92.000 che furono spesi nelle 2021. Va da sé che di fronte a un aumento del 140%, mentre il Comune di Pesaro presenta un piano per aiutare le famiglie in difficoltà, cerca anche la maniera di aiutare se stessa appellandosi al Governo. Il Sindaco Matteo Ricci ha oggi fatto presente come servono ulteriori risorse per Comune e Province perché all'appello mancano 800.000 euro rispetto al miliardo stimato per coprire le spese degli enti. Comune secondo il quale è fondamentale l'utilizzo dell'avanzo di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Anche le amministrazioni pubbliche hanno bisogno di un contributo, ma non tanto un contributo per far fronte alle spese, che almeno nel caso specifico del Comune di Pesaro le risorse le ha, ma poter pagare le bollette e non dover in qualche modo andare a gravare sui cittadini con i servizi oppure con la tassazione. Questo assolutamente da parte nostra non lo vogliamo fare, lo vogliamo scongiurare, quindi che ci venga permesso di utilizzare le risorse che abbiamo già in pancia e che comunque vengano messe a dimora della destinazione dell'amministrazione e delle risorse da parte del Governo per poter far fronte a queste emergenze. Per Nobili il gap attuale è così quantificabile. Sull'illuminazione pubblica sull'ordine dei 7-800.000 euro, ma quello che incide molto è sugli edifici con i quali invece paghiamo le bollette mensili che si aggira attorno al milione, anche qualcosina in più. L'ultima bolletta, quella di marzo, è un 140% in più rispetto a marzo dell'anno scorso.